In Italia e nei quarti di finale? Sì, ci tenevamo tanto, sapevamo che oggi sarebbe stata dura, si è stati bravi nei primi due set, poi loro sono venuti fuori dal terzo, è stata veramente una bella battaglia. Adesso i quarti contro una squadra forte che gioca molto bene, che in World League ci ha battuto, quindi abbiamo il lente avvelenato e vogliamo assolutamente rifarci, intanto però ci godiamo questo risultato. Un'altra grande rimonta nel terzo set? Sì, è vero, questa squadra in questo momento non vuole mollare, non accetta di stare sotto, io l'ho detto, lo ripeto, qualche mese fa questi set li abbiamo persi quasi tutti, invece adesso siamo lì e accettiamo di essere punto a punto, di magari essere anche sotto e di recuperare, oggi sono stati molto bravi, è normale che in quei frangenti lì ci può essere anche un po' di demerito dell'avversario, ma noi siamo stati bravi a sfruttare tutti i loro errori. Grazie.